Esercizio numero 27. Questo esercizio ci dice che una pallottola viene sparata a 200 metri al secondo da un punto A e deve attraversare appunto questa tavoletta che è di 5 cm di spessore e riemerge da un punto B a 80 metri al secondo. Le nostre incognite sono A, ovvero l'accelerazione, e T, ovvero il tempo con cui la pallottola attraversa la tavoletta. Usiamo queste due formule a sistema, quindi, ovvero accelerazione uguale delta V fratto delta T e delta S uguale velocità A per T meno un mezzo a T alla seconda, meno un mezzo e non più un mezzo perché la pallottola subisce una decelerazione. Infatti, come possiamo vedere, passa da 200 metri al secondo a 80 metri al secondo. Sulla prima formula facciamo la formula inversa e troviamo T e non delta T perché è come se il tempo partisse da zero, quindi T uguale delta V fratto A. T lo sostituiamo alla seconda formula e viene fuori delta S uguale velocità A per delta V fratto A, meno un mezzo A per delta V alla seconda fratto A alla seconda. Qui semplifichiamo e sostituendo con i numeri viene 0,05 metri e non 5 centimetri perché gli altri dati li abbiamo in metri al secondo, quindi sostituiamo con 0,05 metri. Quindi 0,05 metri uguale 200 metri al secondo per 120 metri al secondo fratto A meno un mezzo per 14.400 metri al secondo secondi alla seconda fratto A. Ora abbiamo questa operazione che viene fuori 336.000 metri al secondo quadrati. Ora A lo sostituiamo sulla formula inversa di prima e viene fuori T uguale 120 metri al secondo fratto 336.000 metri al secondo quadrati. Risolvendo abbiamo T uguale 0,0036 secondi e A è 336.000 metri al secondo quadrati.